Conosco il fatto che loro non riescano a mettere il piatto a tavola, quindi nessun lieto fine. Questa mattina è tornata la calma in via Palumbo a Giuliano, sede dei servizi sociali del Comune. Solo ieri l'assalto degli esclusi in graduatoria dei buoni spesa. Sul tema alcuni consiglieri di maggioranza hanno glissato le nostre domande. Allora ci siamo recati da uno dei CAF che ha assistito i cittadini in tutte le fasi di questa travagliata esperienza per ricevere il benefit del governo. Anche per gli operatori sono stati giorni caldi. In alcuni casi non sono riusciti a spiegarsi e a spiegare l'esclusione di alcune istanze. La maggior parte dei nostri assistiti ha avuto la batosta finale, ammessa non beneficiaria per mancanza di fondi, quindi nessun lieto fine. La cosa infatti assurda di questa situazione è che ci sono tantissime persone che non percepiscono nessun reddito di cittadinanza, non percepiscono pensioni e non hanno redditi. Si sono trovati a causa dell'emergenza Covid ad affrontare una crisi economica che è reale. Tra le persone, tra i vostri assistiti, c'è qualcuno che non riceverà il buono spesa e che effettivamente non può mettere il piatto in tavola? Esatto, volevo essere un po' più delicata ma a questo punto sì, ci sono persone che conosco personalmente, che io seguo da un anno a questa parte e a cui siamo anche abbastanza affezionati. Ed effettivamente conosco la situazione, cioè conosco il fatto che loro non riescano a mettere il piatto a tavola, non riescano, hanno necessità di spendere i soldi in farmacie, hanno necessità di far mangiare i figli, persone con ragazzi minorenni che non solo stanno a casa, per questione comunque per la didattica a distanza, e quindi che comunque hanno bisogno di sostenere la propria famiglia. Doveva considerare chi veramente ha dichiarato i redditi zero, chi veramente in questo momento ha necessità di quei soldi.